Presidente della Commissione Lavori Pubblici, sono contento che finalmente riusciamo ad arrivare a questo risultato discusso per troppo tempo, forse il fatto che sia evidente che a breve partiranno significa che era un problema visto e sentito, quindi per una volta i lavori della Commissione producono degli effetti, quindi su quello sono contento, mi auguro che oltre a questo risultato ci ricordiamo anche del problema delle messe in sicurezza generali che abbiamo detto anche in Commissione di affrontare, vedi via Austis. Grazie. Ritira la mozione? Consigliere, aspetti. Sì, la cosa più importante, ritiro la mozione in quanto è in procinto di essere messa in atto. Grazie consigliere.